Benvenuti in Italia, la prima domanda inevitabilmente è perché hai preso la decisione di accettare questo lavoro e quanto sei eccitato per le sfide che ti aspettano? Allora, prima voglio parlare in italiano ma è difficile perché oggi è la prima volta che parlo in pubblico Scusa per il mio italiano, sono molto eccitato per il lavoro e penso che ci sono molte talenti e abilità in rugby in Italia e sono molto accettato, ho provato, sto provando a parlare ma penso che c'è tanta abilità in Italia in rugby e voglio fare una differenza, voglio fare una differenza Conor Rochei non sarà solo l'allenatore della nazionale ma avrà un ruolo che impatterà su tutto il sistema rugbystico italiano Dobbiamo vincere partite, first you have to win matches but as I said, come mi ha detto, I want us to become the best Italian team in history The results then look after themselves Non vedo l'ora di lavorare con tutti in Sistemo Con Gianluca Zibre, Ciaran Crowley a Treviso, Carlo Olandi with the emerging Alessandro Troncon under 20s, tutti Spero dopo 4 anni We improve Voglio aumentare la profondità della squadra in ogni posizione È semplice a dire But yeah, that's what I want I want to see players become better Per quello che hai visto da fuori fino ad oggi Quali sono i punti di forza e quali le debolezze su cui invece occorre lavorare? Quando ho parlato, ho parlato con tutti i giocatori e lo staff e anche lo staff e i giocatori che non andano sul tour Solo poi, only then will I know che piro meglio What I need to do So I don't want to say much until I've met people I've talked to people Do I think we need We must be fitter To play at the highest level Nostra mentalità Has to be stronger Più forte Fitness Mental strength Are two massive things Perché la passione e emocione It's there People want to succeed But you can't just talk About success You have to want to work And a lot of players are very fit Tutti i giocatori è molto fit Ma it only takes Solo to rubato 3-4 players in a team Not to be fit enough The whole team suffers So I'm really excited Jacques did a great job Bringing through a lot of young players We're going to see a lot more young players on the tour And then we have a lot of experience coming back I guardo a Leventi's The under-twenties I giocatori con Petinelli, Vanditi, Spirandio, Bruno A lot of good young players L'estesso sul emergente And in the excellenza So The job Il lavoro È molto duro So Ma Excitante It's exciting And I can't wait Decideremo Enseam Come How we play We will decide together how we play I will look at the strengths Of what we have And we will play to that But First We must be hard to play against We have to defend well Dobbiamo Un grande difesa Un grande ritmo di lavoro Per quanto riguarda il tuo approccio Alla gestione dei Dei giocatori Il tuo modo di gestire i giocatori Quale sarà la tua prima richiesta Quando li incontrerai Individualmente E come gruppo Individually I will Parlero con tutti E say That Incontraro Con tutti Durante il tour I want to see A team Who Work hard Who work hard For each other Want to be the best They can be Individually And Have fun You don't play Sport Non giocca sport Non giocca rugby Senza divertimento And So Hard work And Have fun And we'll Do well Prima hai parlato Della necessità Di avere una collaborazione Forte Con Gianluca Con Kieran Come pensi Di Concretizzarla If they win If they win We win And Players Don't want to play On sides That are losing Every week We want to Win more games But you win more games Not by Talking about winning You work Incredibly hard For us And There's a lot Of hard work Has been done Already Over the last Four, five, six Longer And The system Is beginning To produce Some really Good young players And Our job Kieran Gianluca Me Is to make sure That we work If we don't work together We're not big enough Not to work together So Dobbiamo Dobbiamo Lavorare insieme We must Cosa pensi Che sia mancato In questo Percorso Fino ad oggi It's wrong It's wrong for me Difficile per me A dire And it's wrong Because There are good people And better people Than me Melio persona Than me But I think When You lose It becomes A vicious circle Think of the Six Nations This season Cuestione Nassone Contra Franchesi A drop goal At the end And It's a win Against Scotland It's 29-20 And I think Eduardo Gori Taps and goes Under the posts It could have been in For a one score game With minutes to go And then Sergio Taps and goes If they score Great But it's that close Overseas Are playing at a high level So Simone Favoro Leonardo Sarto Is going to Leo Sarto Is going to Glasgow Anke Giraldini Is leaving Leicester Going to Toulouse Sergio Is playing For Stade And loads of others Mikel Campagnaro And Exeter And Fustutia There's so many players Playing at a high level So There's a lot of ability And We need Habiamo Bisogna De Fortuna Get our best players On the pitch We have a good team Sounds easy Sì Questo tour È stato Una bella opportunità Sin dall'inizio Di far parte Di questo gruppo E poi Queste tre Convocazioni Dal primo minuto Quindi Vala Mai Numero due Sono di certo Un'emozione unica Non me l'aspettavo Sono strafelice Della fiducia Che gli allenatori Mi hanno dato E sì Spero di Poter Confermare Questa fiducia In campo L'ultima partita Di sabato Un punto di partenza Certo Ognuno Comunque Gioca E ambisce Alla nazionale Sempre Per cui Anche durante La stagione Il focus Sarà I risultati Contreviso Far bene Vincere lì Ma Un piccolo pensiero Rimarrà Sul prossimo appuntamento Alla nazionale Che Spero di potermi Riguadagnare Ovviamente Effettivamente Veniamo da due sconfitte La partita con la Scozia È stata Strana Perché Nei primi 40 minuti Siamo riusciti A imporre il nostro gioco Dopodiché Abbiamo avuto 10-12 minuti Di blackout Dove abbiamo preso Tre nette E è stato Difficile Recuperare la partita Ci siamo assunti Le responsabilità Guardati dentro Ritrovati un po' A livello di gruppo Invece Settimana scorsa Mi ha messo in campo Una prestazione Penso di livello Sfortunata Ma allo stesso tempo Anche noi Avremmo potuto Finalizzare meglio Certe situazioni Però Contenti Abbastanza soddisfatti Di quello Che siamo riusciti A proporre in campo Per quanto riguarda Questa settimana Sarà una partita dura Difficile Perché È una squadra Molto organizzata Con Individualità Molto Importanti Ma Allo stesso tempo Stanno preparando Questa partita Giustamente Come se fosse L'ultima E Nessuno Vuol far passare Questo tempo Come Da domani Da domenica In poi È tutto finito Ma giocarci Questa partita Come se fosse L'ultima Come se fosse Davvero Finale Per cui Siamo Molto Confidenti Fullback Gets Gets The ball Wide It's The opening Try And It's Habana It just Had to Be Habana Habana Who Needs Three More Tries To Equal The All-Time Record For The Most Tries In International Rugby Scores His 70th Test Try And All Their Pressure Eventually Pays Off Really Terrific Lead By Van Skalvek Here Comes The Drive Scraus Heavily Involved Trying To Repel This Italian Raid Whiteley Comes In They're Getting Closer And Closer Terrific Italian Play It's Van Skalvek And What A Story Here Van Skalvek Born In Bloemfontein Former Clubmate To Brian Habana And How Fitting He Scores The Try Rudy Page Reaches In It's A Free Play For The Box Pat Lambie Oh He's Away There's A Real Opportunity For Combrick Combrick Now For The Box Page Alberts And There's An Opening Here For D'Allende D'Allende Through And D'Allende Is Going To Score A Try Damien D'Allende Who Turns 25 On Friday Gets An Early Birthday Present And There Was Just An Extra Player And Despite The Attention Save Per So That Was Not A Good Tackle But The Box Back Is Powerful Oh It's Still With Italy And Out It Comes Again Bronzini There's An Extra Man Here Italy Over Venditti Is Over And Joy And Confine In Florence All His Hard Work Has Paid Off Venditti Scores Italy Second Try Of The Afternoon Comoros She Has Hardly Got Any Nails Left To Bite And Italy Drive Again For The Line I Think They're Over They Are Over Italy Have Scored A Try And That Will Register A Huge Huge Victory For Them In Florence It Could Well Be Parisi I Think They Might Be Going To The TMO All The Excitement Could Be Punctured Here Yes Peter For Given The TMO Match Official For This Afternoon And Have A Look At Marco Fuse It's Extremely Difficult To Tell Which Booth Belongs To Blue You Have To Tell To See If It's Like George There's A Booth On The Touch Line Yeah That Is The Booth Of The Ball Carrier Number Four Blue Right So It's Touch So It's Touch No Try No 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 Try No Try Huge Disappointment Around Florence Italy On the threshold Of something Magnificent Stay Two Meters One By Italy Time Is Do It Just Need To Get The Ball Into Touch And It's All Over Italian Rugby Has A Renaissance They Have Beaten The Spring Box In Exceptional Circumstances And There Is Delight And Relief In Equal Measure Connor O'Shea Said He Would Bring Success To The Italian Rugby Team And He Has Delivered What A Phenomenal Effort The Stadium Has Absolutely Rusted Scenes Of Joy And Phenomenal Pride And This Italian Team Has Taken One Of The Biggest Scots In World Rugby By Beating The Spring Team This Off In Florence And Disappointment From The Celestic Inside And Only Then Put Their Rugby Into World Turmoil But What A Phenomenal Letters From This Italian Team Up